Andrea, fallo passare. Guarda, c'è anche la gallina. È troppo buio. Non voglio insegnare i valori diversi. E poi ci sono i bambini. Non voglio insegnare i valori diversi. Poi, è in grado. Non voglio insegnare. Sperto bene, non voglio insegnare. Non voglio insegnare. Grazie a tutti. Grazie. 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 Questo è semplificato. No, no. No, no. E' pure. Adesso ci riguarda la fascia. Tu mi si lavora. Io ce l'ho questo. Così ce l'ho. Ecco, piccolino. Direi da là. Guarda qua. Guarda qui. Guarda qui c'è. Guarda qui. 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 Grazie. 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 Allora Vieni le panine Vieni le panine Vieni le panine Vieni le panine Vediamo Il gesto che lo fai verso la camera Potremmo mettere c'è C'è un po' buone Grazie a tutti. Grazie. 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 Andrea. Grazie. 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 ... Così sono in questione... Grazie. 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 Vedi che cazzo c'è? Ho fatto con una piccola. Alla sorella, è cavolo. Scaviglia tutta. E' troppo cavolo. E' una brucia male. A me non mi chiede cavolo. wnifie ? большina nogle bean Lassò io hu salad esta. Lassò io bottles! Lassò io jus ne metto. Lassò io, første sapere. Lassò io. Grazie. 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 si potrebbe anche fare, come ci sono tante persone, ma se uno assaggiò ciascuno, assaggiamo tutta la ricotta. Scusi, scusi. 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 Scusi.